Il progetto della capsula compostabile nasce dopo che per alcuni anni abbiamo prodotto con grande successo delle capsule. Si pone il problema della capsula compostabile perché ci siamo resi conto che l'impatto ambientale è importante e la scelta di Novamont nasceva dalla ricerca sul mercato, l'abbiamo trovata, di un'azienda che faceva dell'innovazione su materiali nuovi, il partner ideale per studiare un prodotto che è piccolo ma molto complesso. Il risultato che ad oggi identifica è un prodotto che a metà del prossimo anno vedrà tutte le capsule microcop compostabili. Questo è un segno importante che credo debba dire anche al mercato che vi è una prospettiva di straordinaria efficacia. Aggiungo poi che Novamont è stato un partner importante perché la compostabilità è un fatto complesso ma non è il solo problema che abbiamo affrontato, che vi era un tema anche di complessità tecnica della capsula. Capsula la quale ha un caffè che deve stare 18 mesi accanto al materiale, caffè che non deve subire gli effetti positivi o negativi dell'odore di questa capsula e va in una macchina la quale eroga caffè a 95 gradi con 15 bar di pressione. Quindi un progetto molto complesso richiuso in un piccolo oggetto.